2A più PA giralo, giralo fallo vedere 194 Costanza Alvarez de Castro vai Alessandro 0, 8, 7 giralo 87 grazie Massimo, vai Cos'è Angelino? 1, 5, 7 1, 157 Massimo, tardi vai, pesca 1, 6, 3 163 grazie Carmelo Pallivo 1, 7, 5 gira 175 grazie Riccardo Penassi Riccardo Penassi giralo 200 209 209 Perfetto Perfetto grazie Sofia Cacciapaglia 1, 2, 6 126 126 grazie Roberto Caracciolo 1, 3, 9 1, 3, 9 giralo, fallo vedere 139 139 grazie Cristian Chironi Cristian Chironi Cristian Chironi 0, 9, 4 94 Francesco Ciavaglioni 0, 5, 4 0, 5, 4 grazie Alessandro Citoria 0, 3, 5 fallo vedere 35 Marco Colapso Marco Colapso vai Gira, gira 204 204 Davide e Elia 1, 0, 0 100 Alessandro Dandini 1, 5, 9 facciano vedere perfetto grazie Tommaso De Luca 8, 9, 0 0, 6, 8 68 grazie Michela De Mattei 2, 1, 1 211 Ettore Famini 1, 3, 2 132 manco calofaro 1, 4, 6 146 Francesca Grilli 0, 3, 6 36 Massimo Grimaldi Massimo Grimaldi 0, 1, 6 16 grossi maglioni 1, 3, 4 104 Josephine 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 Grazie. Rolena Arvis, vai. 41. 41. Cori Nervi. 152. 152. Elena Diola. 0,77. 77. Thomas Newton. 18. 18. Tobias Caspar. 0,17. 17. Perseghete. 10, 9, 0, 9, 90. Facci vedere? No, ma. Grazie. Laboratorio San Carmi. 55. Diego Marfan. 2, 3, 4. 234. Orlando Miani. 2, 1, 6. 16. Grazie. Passa il bombigone. Facci vedere? 1, 1, 2, 3. 110. Maria Carmela Milano. 6, 1, 2. 12. Diego Mirabella. 2, 1, 3. 213. Davide Monaldi. 107. Gira. 117. Miriam Milano. 0, 3, 3. 33. Matteo Nasini. Vai. 1, 2, 0. Facci vedere? 1, 2, 20. Giorgio Orbi. 57. Grazie. Marco Palmieri. 141. Bravissima. Giorgio Orbi. Giorgio Orbi. 0, 9, 6. 96. Luana Perilli. 215. 215. Leonardo Petrucci. Giorgio Orbi. Giorgio Orbi. 23. Giorgio Orbi. Marco Pezzotta. 0, 9, 1. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. 0, 7. Marta Pietro Bono, 92, grazie, Gianni Politi, 108, 118, Califisto Ramirez, 0, 2, 7, faccio vedere, scusa, 27, Marco Raffarelli, 105, bravissimo, Pietro Ruffo, 86, salotto buono? Volete rischiare un po', se volete, no? Ok, va bene così, salotto buono? 203, faccio vedere, 203, Maurizio Savini, 59, aspetta, aspetta, faccio vedere, perfetto, Lanza, 40, gira, perfetto, grazie, Giuseppe Stampone, 195, start, 23, 23, Marco strappato, 37, perfetto, strato, 1, 1, 9, gira, facci vedere, 119, Elisa, strima, grazie, 34, 34, 28, perfetto, 28, perfetto, Paolo Tamburella, 1, 1, 9, 5, 15, Patrick tutto fuoco, Patrick tutto fuoco, 191, 191, 191, Alessandro Rizzini, 219, bravissima, 219, Nicola Voltana, Aspetta, 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 aspettate ragazzi, 16, facci vedere, 61, e Angela Azzurro, l'ultimo, 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 l